ciao a tutti oggi prepareremo le zucchine trifolate il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini aglio prezzemolo tritato olio extravergine d'oliva sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio chiudiamo con il coperchio il misturino e facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 aggiungere le zucchine il sale il pepe e il prezzemolo tritato chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi con l'anti orario a velocità soft verificate la cottura delle zucchine se dovesse essere necessario prolungate la cottura per qualche altro minuto nel nostro caso le zucchine sono cotte andiamo a impiattare zucchine trifolate grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 Grazie a tutti.